Dopo aver inizialmente negato l'interrogatorio dei boss Salvatore e Sandro Lopiccolo, la quarta sezione del Tribunale di Palermo, preseduta da Anna Maria Fazio, lo ha ammesso, ma i due boss non hanno accettato di rispondere. In un primo momento i giudici avevano rilevato che l'interrogatorio non era stato richiesto formalmente né dall'accusa né dalla difesa. Ma successivamente il Tribunale ha riscontrato che i Lopiccolo figuravano nella lista dei testi dei PM e il sostituto procuratore, Domenico Gozzo, ha insistito per procedere all'interrogatorio. La difesa dei Lopiccolo, rappresentata dagli avvocati Marcello Trapani e Alessandro Campo, si è opposta, ma il Tribunale ha comunque ammesso l'interrogatorio. A questo punto però Salvatore e Sandro Lopiccolo, collegati in videoconferenza da due saghette diverse dal calcere mianese Opera, si sono rifiutati di rispondere. Nella precedente udienza del processo San Lorenzo, il 15 novembre scorso, i due boss avevano accettato di rispondere solo alle domande dei loro difensori. Al termine dell'udienza l'avvocato Campo ha chiesto la revoca dell'isolamento dei Lopiccolo. I due boss sono in isolamento dal giorno del loro arresto, avvenuto il 5 novembre scorso in una villetta del Palermitano. Il presidente Fazio ha sostenuto di non avere nulla in contrario. Il processo è stato rinviato al prossimo 29 novembre per l'inizio della requisitoria dei PM Anna Maria Picozzi, Gaetano Pace e Nicolo Gozzo. Prima dell'interrogatorio dei Lopiccolo si è proceduto all'interrogatorio di altri imputati, accusati in particolare di chiedere il pizzo da alcuni esercizi commerciali del mandamento di San Lorenzo. Tra questi un autolavaggio di Partanna Mondello, stessa attività gestita fino a qualche tempo fa da un altro figlio di Salvatore Lopiccolo.